Siamo a Niscemi per la partita nuova Niscemese Megara, il risultato finale 0-3, abbiamo beccato fresco di doccia Mignieco. Impressione a caldo per questa partita? Eravamo consapevoli di venire a fare una partita importante qui, siamo venuti molto concentrati e determinati. La partita si è messa subito nella giusta via con l'1-0 fatto nei primi dieci minuti. E poi la doppietta di Di Mauro, non se non sbaglio. Noi è sembrata dagli spalti la squadra ben messa in campo. La squadra avversaria? Il Megara. Sì, loro diciamo che non hanno costruito tanto, mentre eravamo più ordinati della partita scorsa, più legati nei reparti e poi siamo riusciti a fare il bottino pieno. Abbiamo già chiesto a Riccobello dove vuole arrivare questo Megara? Ma non ci possiamo nascondere, stiamo puntando fortemente alla vittoria del campionato e siamo sulla buona strada, anche se credo che sarà molto dura. Grazie mille. Grazie mille.